buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera professionale con la v maiuscola oggi ragazzi parleremo di stress stress molte persone mi chiedono dottore si può eliminare lo stress l'esaurimento nervoso a certi livelli esagerati perché sono in famiglia al lavoro con i figli con i colleghi non li sopporto più mi stressano mi rovinano la vita eccetera 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 bene io ho raccontato la mia storia tanti e tanti anni fa cresciuto con un papà molto stressato rabbioso e chi più ne ha più ne mette ero diventato come lui quando ho avuto poi delle ero adolescente studente lavoratore senza una linea in tasca e poi quando ho aperto le mie attività la mia prima attività bene non mi potevi toccare saltavo dalla sedia a due metri perché non reggevo la pressione del lavoro fumavo tre pacchetti tre pacchetti di sigarette ne accendevo una mentre l'altra ancora fumava nel portacenere compagnia bella avevo spesso mal di testa cronico andavo in tachicardia la mia faccia diventava tutta rossa per la rabbia e lo stress mi mi arrabbiavo per un non nulla mi stressavo per un non nulla e davo la colpa sempre agli altri sempre e mai a me stesso poi miracolo dei miracoli io da più di 12 anni da quando mi ipnotizzo h24 e potrei anche non ipnotizzarmi sono l'unico caso al mondo si ipnotizza h24 a certi livelli con l'ipnosi di cs vera professionale con la v maiuscola non sono più la persona stressata i miei collaboratori soprattutto quelli che stanno con me da tanti anni si ricordano di me che un tempo avevo era una persona che si incazzava scusa l'espressione un po volgare facilmente senza quasi quasi un motivo ma per me esisteva sempre un motivo per cui che cosa perché ti racconto questo che se il sottoscritto allevato e cresciuto da un papà che si stressava e perdeva la pazienza per nulla poi creando le proprie attività in tutto il mondo non ha fatto altro che aumentare questa pressione questo stress perché più responsabilità hai più stress avrai nel 2008 grazie o a causa di mio padre ho trovato la dottoressa rina brunini di los angeles baby reels online ho salvato mio padre dall'ictus ma da quell'episodio io me ne sono uscito dallo stress poi ho fatto i miei esperimenti su di me su centinaia e centinaia di persone nel mondo ottenendo risultati anche maggiori ai miei anche con un solo audio mp3 dicesse dal titolo no stress molto controllo dei nervi un vero e proprio capolavoro che se seguirai le istruzioni molto facile la prova di un nonno la prova di un pigro la prova di un idiota come ho fatto io nel 2008 lo stress si sbriciolerà perché si rifletti perché ci stressiamo perché i nostri cinque sensi aggiungo il nostro sesto sesto senso vedono attorno a te attorno a me attorno a noi cose che non ci scendono in base alle nostre educazioni inconsce ai nostri programmi inconsci come dice qualche guru per cui se uno sposta il calzino a destra tu magari lo vedi ha spostato a sinistra o in disordine oppure se qualcuno ti risponde in malo modo è perché tu inconsciamente no con la ragione attenzione afferra il quid pro quo la differenza bene tu perdi la pazienza tu ti stressi tu vai in tilt ti ricordi quando si giocava ai biliardini ai flipper io non giocavo mai perché mi davano fastidio i miei amici giocavano al flipper più di 30 anni fa per cui che succedeva a un certo punto il flipper andava in tilt si tiltava per cui che cosa succedeva è che bisognava spegnere riaccendere chiamare il proprietario e compagnia belle ecco un po succede con noi nella nostra vita nella nostra mente se tu non hai lo stress o meglio dire se trasformi lo stress questa energia negativa in eustresso come dice qualche altro guru c'è uno stress positivo un'energia positiva dove puoi camminare sulle acque dire montagna sposta della montagna si sposterà ora tu hai due scelte o afferrare ciò che voglio dire scaricarti questo potentissimo naturalissimo senza nessuna manipolazione senza nessun effetto collaterale o indesiderato perché l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola non ha nulla a che vedere neanche con la stessa ipnosi conformista commerciale di milton eggs on the velman briar ways anche se è ottima quest'ultima perché da qui sono partito e soprattutto non ha nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa l'ipnosi da spettacolo l'ipnosi paura e l'ipnosi da film bene tu o ti scarichi quest'audio potentissimo e naturalissimo creato ad arte ad hoc con più di quasi un secolo di antico sapere perché il 70 per cento sono suggestioni dcs che provengono direttamente dallo seggio di da due grandi artisti dell'ipnosi vera e professionali miei maestri miei mentori miei amici miei associati la dottoressa rina brunini il professor dottor michel angel garai che io ringrazio per l'eternità ragazzi l'eternità ok oppure puoi anche andare presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona che però ascoltami bene abbia già affrontato casi come il tuo perché il sottoscritto al momento ha sospeso in lungo e largo in tutto il mondo le sessioni online di pronti dcs vera e professionale per cui con la v maiuscola faccio questo segno per dire v maiuscola qua si sta parlando di pronti fuffa ragazzi ok a te la scelta però ti posso garantire che centinaia e centinaia di persone anche con un solo audio mp3 dcs altri hanno messo più audio no anzi hanno panico no depressione no passato negativo insieme a no stress molto controllo dei nervi per accelerare un po la loro soluzione perché solo il tuo subcosciente sa cosa arde dentro di te e non la tua ragione o chi ti gira attorno ok è inutile che io mi rivolgo soprattutto a quelle persone che le hanno provate tutte da anni a no room parliamo con i fatti non parliamo per sentito dire per i famosi bla 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 ok bla bla parliamo con i fatti ragazzi se io ho messo la mia faccia dopo dieci anni su questi schemi l'ho fatto per darti una mano perché a me non entra nulla non vendo nulla ho ceduto tutti i miei diritti l'associazione in proleggio associati lo sanger's beverly hills non mi interessa che i miei amici sono quelle divulgare il mio metodo finché sono su questa terra finché respiro fammi tutte le domande del caso ti risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi mi impegni visita il mio sito internet www.iprologiassociati.com la mia fan page su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube per favore sempre come piacere e fai share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita come è successo a me a centinaia e centinaia di persone nel mondo e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di cese il dottor claudio saracino e fidati delle mie parole perché sclamerai wow 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 e le istruzioni sono così facili che le può seguire anche un nonno un idiota o un piccolo che è un bacio un abbraccio del dottor claudio saracino alla prossima ciao